Il convegno a cui stiamo per assistere è in questa chiesa, in un posto un po' scomodo da raggiungere proprio perché da qui nasce questo festival che è la sua terza edizione. Avremo tempo alla fine del convegno per dare un occhio a questa rappresentazione che sta sopra le nostre teste. E' la leggenda di San Glisente, è un dipinto della metà del Quattrocento di un autore che viene chiamato proprio maestro di berzo inferiore perché non si sanno le generalità ma si conoscono diverse opere, quasi tutte conservate in questa chiesa. L'intera volta del presbiterio, questa prima campata del presbiterio, e quasi l'intera parte degli affreschi sull'arco trionfale sono appunto di questo maestro, l'unica altra opera conosciuta di altissimo livello è conservata nel centro di Milano al Museo Bagatti Valsecchi, è proprio la prima opera del percorso. Ecco, in questo affresco, oltre a altri stimoli, perché già prima del festival aveva stimolato alcuni incontri in questa chiesa, uno dedicato all'orso, mi sembra di ricordare, ecco proprio perché San Glisente era figurato anche con un orsa che fa parte della leggenda. Ecco, lì San Glisente era figurato con le vesti di pastore quattrocentesco e quindi ha un bastone molto simile a quelli che vedete qui a terra, di cui poi vi racconteremo, vi lasciamo un po' di suspense. Ecco, questo bastone è lungo, l'abito di feltro che poi diventa, tra l'altro, si sovrappone a quello francescano perché probabilmente anche San Francesco va a recuperare l'abito dei più poveri che erano proprio i pastori. Il cappello a tesa larga, il gregge, il cane che non è ancora un cane vero e proprio da pastore ma un cane da guardia contro i lupi, infatti ha un collare antilupo. Ecco, ci fanno capire proprio i connotati del pastore in quell'epoca. Il connotato più significativo è questo grande corno di legno che è il corno delle Alpi. Tanti di voi l'hanno visto in rievocazioni in Svizzera, in Alto Adige, in Austria, in Germania, ma è uno strumento che è anche italiano, anzi soprattutto italiano perché questa è una delle più antiche raffigurazioni sinora trovate dell'uso di questo corno tra i pastori, che è l'uso che poi è entrato nel folklore, quindi nello strumento che conosciamo noi oggi. Adesso lascio la parola al professor Mocchi che ci introduce invece all'argomento di quest'anno, appunto avete già assaporato alcune suggestioni da parte dei sindaci, sono le ciocche italiane, i campanacci, i campani e soprattutto i campanacci che si producevano da secoli a Bienno.